Quella che sta per arrivare sarà una settimana molto importante di calcio a mercato. Da lunedì 18 a mercoledì 20 giugno le società avranno l'opportunità di esercitare il diritto di riscatto sui calciatori. Da giovedì 21 a sabato 23 giugno sarà invece il momento dei controriscatti. Insomma la prossima settimana aiuterà a fare ulteriore chiarezza sulle strategie di mercato ed anche il pescare pienamente coinvolto. Dario Zuparic dopo un anno e mezzo di prestito sarà riscattato dai croati del Rieca per una cifra che si aggira sugli 800 mila euro. Il pezzo pregiato di questa fase è però Ahmad Ben Ali. C'è attesa per vedere se il giocatore anglo-libico continuerà ad essere un calciatore del Delfino a tutti gli effetti o se, eventualità più probabile, il crotone eserciterà l'opzione per 1,3 milioni di euro. Probabile che i pitagorici effettuino l'investimento per poi guadagnare sull'operazione rivendendo Ben Ali ad un club di Serie A. In corsa ci sono Cagliari, Spalle e Genua. Il mancato riscatto di Francesco Zampano da parte dell'Udinese farà invece innescare l'iter per l'operazione col Genua che coinvolge anche Riccardo Fiamozzi che diventerà un giocatore bianco-azzurro. Pescara che d'altro canto non eserciterà le opzioni per gli esterni. Filippo Falco che tornerà al Bologna e Kevin Arthur Yamga che tornerà al Chievo Verona. Come detto nei giorni scorsi c'è una chance per il riscatto di Macin se la Roma dovesse concedere uno sconto rispetto al prezzo fissato di un milione e mezzo di euro, altrimenti si lavorerà al rinnovo del prestito. Il Delfino guarda anche le dinamiche altrui, in particolare quella legata a Federico Melchiorri. Se l'attaccante non dovesse essere riscattato dal Carpi tornerà al Cagliari e a quel punto il presidente Sebastiani potrà sferrare l'attacco per riportare in rival adriatico il centroavanti marchigiano che gradirebbe e tanto un ritorno a Pescara. Insomma giorni cruciali per dare impulso al mercato, basti dire che la permanenza di Zampano e l'operazione col Genoa permetterebbero al Pescara non solo di garantirsi i fiamozzi ma anche di acquisire in prestito l'esterno Riccardo Improta nell'ultima stagione al Bari e l'attaccante Raul Asensio lo scorso anno ad Avellino. Più difficile avere un altro genuano, Leonardo Molosini, un po' perché sul giocatore c'è anche il club che lo ha lanciato il Brescia, un po' perché è un trequartista e mal si sposerebbe col modulo di riferimento di Pilon, il 433.